Calma, 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 per favore, calma, calma, per favore, calma, lo sapevamo già da tempo che da Pioli a Fonseca non è un balzo in avanti, non è un balzo in avanti, oddio qua mi faccio male, no, non è un balzo in avanti, lo sapevamo, più che altro vai a tentare con quest'allenatore che porta le stesse idee di Pioli, ma aveva bisogno, come l'ha detto Ibra, ma con tutti gli spazi da Pioli aveva bisogno di cambiare, perché eravamo diventati troppo prevedibili, ci sta, vogliamo sperimentare, ma ci sta, per ora ti rendi conto che non è un balzo in avanti, reale, non è il fatto che, oh ma dai, è la terza giornata, la squadra deve un attimo capire, no, ci sono più problemi qua, ci sono più problemi ragazzi, ci sono sei gol presi in tre giornate, Pavlovich fa reparto da solo, Pavlovich, poi ci sono dei giocatori che hanno fatto vedere di essere contro allenatore, ma anche secondo me mancando di rispetto alla squadra, tipo Teo e Leal, ci sono un sacco di problemi in questo momento, a bestia a voi, ma veramente tanti, in alto insieme per i 100.000 iscritti, attiva la campanella per ogni aggiornamento del canale, grazie di cuore a ognuno di voi, eh sì, porca miseria, che stiamo facendo qua, le belle statuine stiamo facendo, ehi attenzione, nel libro paga Pioli, ma dai, non lo sapevamo, bene, allora richiamiamo Pioli, eh, ok, quindi diciamo che abbiamo fallito con Fosseca, non è che è tanto un fallimento, no, no, è un fallimento, ma siamo sicuri di richiamare Pioli, ma non possiamo vedere tipo Allegri, sì, sì, e chi lo paga? Tu, lo paghi tu Allegri, chissà quanto ci chiede, sì, hai ragione, dai, richiamami Pioli, va bene, ok, let's go, ma let's go un paio di ciufoli! Pioli! Prima abbiamo già parlato di una possibilità di, va là, di esonero di Ibra, ma questa è un'esagerazione giornalistica, è una provocazione, il ritorno di Pioli non è una provocazione, ragazzi, non va, allora, tu vai a Ciappalleghe, già ci sono gli Allegri out, a me sinceramente Allegri piace, perché anche se non fa giocare bene le squadre, poi bisogna vedere sta cosa, perché è un conto alla Ju, un conto in Milan, ma lui comunque vince, Pioli, ci ha portato uno scudetto, forse magari c'era bisogno di un restyling, forse era solo un problema di infortuni, ci sono tante domande che non hanno risposte, e comunque a proposito di infortuni, a noi già mancano sei giocatori, quindi gli infortuni in realtà sarebbero anche ripartiti non gravi, ma sono comunque già ricominciati, va là, raga, vediamo che cosa succederà, ci sono due settimane, ma Fonseca sicuramente, sicuro no, ma non sarà esonerato ora, magari Milan vorrà aspettare tipo ancora uno o due giornate per capire la situazione, se è il caso appunto di cambiare di nuovo, ma a lei che credo che non sia fattibile, io spero ancora più che altri, non rabbio, a proposito di rabbio, ma ne parliamo.